Siamo al corso di marketing diretto, le tue impressioni su queste prime ore? Ma è un corso diciamo molto appunto diretto perché effettivamente serve ad utilizzare alla meglio i canali che oggi ci sono sui telefonini, nello specifico Whatsapp e anche le mail dirette, ed è molto interessante. Molto interessante come tutti quelli che si affrontano con RAM, i partecipanti sono molto attivi quindi è davvero molto divertente sostanzialmente imparare nuove cose e ora vediamo la seconda parte che sarà sicuramente molto interessante con l'altra referente e ci aspettiamo soltanto tante cose belle da dover imparare e soprattutto da dover mettere in opera nelle nostre aziende e nel nostro piccolo. Oggi al corso di marketing diretto si parla di Whatsapp, si parla di mail marketing, come applicherai tu in questi fondamenti, queste basi che vi stiamo dando in questo corso? Lo applicerò sui nostri clienti soliti anche magari futuri per comunicare sulle nostre iniziative, le nostre vendite, i nostri servizi che offriamo al pubblico. Trovi un corso utile, pratico? Un corso sì, molto utile e pratico per la gestione dei clienti. Per me è la prima occasione di partecipare a questo corso e come ripeto la cosa è molto interessante e l'utilizzo di Whatsapp, penso che tutti facciamo uso di questo strumento che abbiamo a disposizione, molto probabilmente conosciamo una piccola parte di quello che ci si può fare. Ecco, questa è un'occasione importantissima per imparare, cercando di utilizzarlo al meglio. Grazie a tutti. Grazie a tutti.